Un cordiale buon pomeriggio da Emilio Migliaccio. E' in pista per una prova di riqualifica il quattro anni Secretariat, un figlio di Ganymede Venella Giuss con Antonio Velotti in Salchi. I primi 200 metri sono percorsi in 15 e 3. Ricordiamo Secretariat, piazzato classico. Portacolori di Salvatore Soria completa il quarto iniziale in 38. Piuttosto centrato nella meccanica e bello fisicamente, va a completare i 600 in 45,5 con 14,7 di ultima frazione. Adesso si avvicina il galoppino e il figlio di Ganymede completa il mezzo miglio in 1,1,5. Affiancato dal galoppino arriva al completamento del chilometro in 16,3, ultima frazione in 14,7. A lunga deciso adesso Secretariat, una frazione notevole sulla retta delle scuderie, dai 1,2 ai 1,2 in 14,3, 1,37 i tre quarti di miglio. Viaggia ancora a ritmo sostenuto. Ultima frazione in curva ancora in 14,3, un quarto intermedio in 28,7. L'andatura si mantiene sostenuta anche nella frazione finale, anche se ha qualche incertezza, ha puntato qualcosa, forse un cartellone pubblicitario. La retta d'arrivo addirittura in 13,7, 1,58,7. Grazie.